ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora è un po che manco ma c'è una spiegazione e infatti ve la voglio dare perché non mi sembra giusto che chi mi segue su instagram e su tik tok lo sappia e chi invece mi segue solamente su youtube perché non ha instagram e tik tok rimanga così senza una spiegazione allora abbiamo avuto il covid noi abbiamo avuto il covid 15 giorni prima della chiusura tra virgolette dell'emergenza della pandemia quindi i qui i primi in mezzo a marzo ecco mettiamola così in mezzo a marzo precisamente io sono risultata positiva il il 13 di marzo e siamo usciti definitivamente tutti e quattro il 20 28 di marzo vi racconto brevemente come è stata la nostra esperienza perché penso che sia importante dare la propria esperienza perché ogni esperienza è diversa di conseguenza non tutti stanno male con la febbre non tutti stanno male che hanno l'affanno eccetera allora vi spiego un attimo quello che è successo allora io mi sono cominciata a sentire male la domenica quindi il 13 a mattina con una gran tosse che i polmoni e proprio andavano a pezzi contemporaneamente mio figlio non stava bene neanche lui di conseguenza noi siamo rimasti a casa e invece mia figlia e mio marito stavano benissimo la sera della domenica dopo che comunque non è che ci siamo stati molto attenti ho fatto un tampone perché perché praticamente la mattina dopo i miei figli dovevano andare a scuola e sinceramente se avevo qualcosa non mi andava che portassero il covid a scuola e infatti sono risultata positiva siamo andati a fare il tampone tutti e quattro il lunedì quindi il 14 ma sono risultata positiva solamente io i miei figli e mio marito no cosa abbiamo deciso di fare abbiamo deciso comunque di chiuderci in casa tutti e quattro perché innanzitutto perché i miei figli comunque secondo noi l'avevano incubata e quindi non mi andava che la portassero a scuola e mio marito perché comunque io ero isolata dovevo stare isolata e quindi i miei figli non si possono occupare da soli di se stessi ancora ancora non hanno l'età per potersi occupare di se stessi di conseguenza mio marito è rimasto a casa io sono stata isolata per due giorni e mezzo sono stata isolata due giorni e mezzo dentro casa con una serie di problemi organizzativi che chi ha dei bambini ha una famiglia e soprattutto le mamme che sono positive e hanno i figli negativi possono capirmi ci sono stati dei problemi tra virgolette organizzativi non non piccoli insomma perché comunque dovevano fare una dad dovevano collegarsi insomma era tutto un po' un casinato il mercoledì pomeriggio i miei figli cominciano a sentirsi male anche loro con tosse raffreddore e mio marito solamente con il raffreddore con mio marito abbiamo deciso di fare un tampone a tutti hanno rifatto i tamponi e sono risultati tutti e tre positivi quindi noi praticamente siamo ci siamo messi in quarantena tutti insieme siamo stati qui in totale tutti e quattro 15 giorni in quarantena siamo usciti il 28 dalla quarantena e quindi adesso stiamo tutti bene a parte un piccolo un piccolo problemino che io avevo preventivato nel momento in cui ho saputo del covid ho detto speriamo che non ci sia questa cosa perché era l'unica cosa che mi mi preoccupava ovvero la questione del fiatone del fiato corto della fatica che si sente anche nel fare le piccole cose purtroppo io questa cosa me la sento ancora ormai sono passati altri dieci giorni quindi me la sento ancora quando faccio le piccole cose quando salvo due scalini mi sembra di aver fatto sette piani a piedi quando anche solo che mi abbasso per pulire per terra una cosa una piccola cosa mi rialzo al fiatone questa era forse l'unica cosa che mi dava veramente pensiero fortunatamente i miei figli e mio marito non hanno questa cosa ce l'ho solamente io ovviamente tra le varie cose ovviamente che fai non tu prendi il fiato corto diciamo che io non sono una tipa ansiosa sono sincera sono una tipa molto tranquilla quando succedono le cose cerco sempre di trovare il lato positivo e di risolverle nel nel modo più semplice possibile però questa cosa mi sta dando un po di problemi perché sono andata all'ultimo l'ultima spesa che sono andata a fare anzi che c'erano i miei figli perché io ho cominciato ad avere la tachicardia e a sentire che non respiravo più calcolate che dentro il supermercato comunque state con una mascherina la temperatura ovviamente non è fredda almeno qui da me è freddo di fuori ultimi giorni è stato freddo e la temperatura ovviamente dentro un supermercato non è fredda è calda tra virgolette comunque vivibile e a me ha dato molto fastidio probabilmente anche perché il supermercato dove sono andata è molto piccolo rispetto magari a un un cop a un conad a un euro spin a un lidl è più piccolo e quindi diciamo che ho sentito questo problema ringraziando il cielo avevo i miei figli e che gli dicevo prendimi questo prendimi quell'altro sono riuscita a fare la spesa ma vi assicuro è una cosa che a me destabilizza non avrei mai pensato che questa cosa potesse destabilizzarmi però purtroppo è successo adesso fortunatamente siamo usciti dal covid la situazione almeno qui da me sta rientrando c'è stato un boom in latante da quando sono risultata positiva io nel giro di una settimana c'è stato un boom di casi assurdi qui nel mio paese e le classi della scuola elementare della scuola media sono state un macello